Sì, signori, buon appetito in tutti i genitori di Natana Bacchetta Corotta, per questo recupero della seconda giornata, il tirono per il dono, e la teglia per creare manca dal tirono del blu. Questa tela di un ponte, da l'altra, va bene anche la serata, e allo sud del verano. Sì, signori, buon appetito! 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 Buon appetito!